Om Shanti Om Shanti Avyaktavani 9 June 1969 Susti Ka Mitha Rup Aalasya Dousara Point Course Bhi Pura Ho Gaya Revise Course Bhi Ho Raha Hai Phir Bhi Majority Ki Result Iska Kya KaraN Hai Sabhi Pursha Arth Bhi Karate Ho Omanga Bhi Hai Laksh Bhi Hai Phir Bhi Kyo Nahi Hota Hai Kisini Kaha Attention Kam Hai Baba Ketetai Kis Baat Ka Attention Kam Hai Yeh Toh Attention Sabhi Rakhate Hai Ki Laiak Bun Nazidik Aayin Phir Bhi Mukhya Kaun Sa Attention Kam Hai Jis KaraN Avyapta Stiti Kam Rhehti Hai Baba Ketetai Korse Bhi Pura Ho Gaya Revise Korse Bhi Ho Raha Phir Bhi Majority Ki Result Bacche Bacche Is Baat Ko Samjhe Baba Nye Toh Gyan Pura Dhe Dhiya Abhi Revision Bhi Chal Rhe Jho Atma Paramatma Ka Gyan Chakra Ka Gyan Bhabha Nye Pura Dhe Bhi Dhiya Abhi Revision Ka Same Chal Raha Hai Phir Bhi Baba Ketetai Result Kya Hai Jaisi Honi Chai Vaisi Nahi Hai Bacche Ko Jaisi Banna Chai Vaisi Bacche Nahi Bane Hai Itna Same Hua Hai Phir Bacche Nahi Ban Paya K Kya Hai Bacche Ko Kho Kheech Nahi Hai Ida Maaya Kheech Tih Hai Udhar Baap Kheech Tah Hai Bacche Khi Jaisi Avastah Dhin Bhar Me Bacche Idhar Udhar Hote Rhe Tih Jaisi Bacche Khi Avastah Hai Jaisi Khi Dhin Bhar Me Sansar Khi Avastah Me Hai Toh Maaya Khi Tare Bacche Dhin Bhar Me Murali Ka Chintan Hai Baap Khi Aad Hai Baap Khi Padhai Hai To Baap Khi Or Jai Ghe Bacche Apar 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 And Mukhya Baat Hai Shreer To Karm Karega Lekin Karm Karm Kertte Bhi Hemari Buddhi Kaha Par Hai Ya Sabse Mukhya Baat Hai Kami Kari head Kari Kareng Kareng Kari 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 i nostri conti a te resulti e sannisar a te stititi oggia vabbà pò chare isca carin kia è sabhi pursharit bhi kerti ho umanga bhi è laksh bhi è fir bhi kio nahì ho tà sabhi bacchè pursharit tò acchè se kerti sabhi co umanga bhi è che hai pursharit her bacchè kasi ko lagta hai ki kasi mire 8 bari murli hoti 10 bari murli hoti itni bari drill hoti itni bari sakaash dite umanga sabhi mè hai or košish bhi sabhi kerti laksh bhi sámne hai ki bap saman banna hai pir bhi nahi ho raha karen kia kisi nai kaha attention kam hai baba pòchare kis bati kis bati attention kam hai koon sa attention kam hai sabhi bachche check kare yato attention sabhi rakte hai ki layak benne nazadik ae hir bhi mukhe koon sa attention kam hai jis karen avyakt siti kam rheti hai ae 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 koon si baat hai ae koon sa attention hai jis karen avyakt siti kam rheti bina non vediamo non vediamo non vediamo abbiamo tutti la via qui via qui qui va puoi qui non non ci siamo stai rai allora che 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 chi che 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 è il oggi il corso molto bene, ora state molto bene, oggi il corso molto bene, oggi è di tutto quello che è davvero bene, perché il corso che viene bene, cosa è che il corso, adesso si è avvenuto, oggi è avvenuto, oggi è�سo, il corso è avvenuto, oggi è avvenuto, non è avvenuto. Rosa a cui si cresce, questo è il risultato di cui si cresce, questo è il risultato che oggi siamo 8 ghi, è il risultato che qui si sono 8 ghi, questo è il risultato di cui si crescere. Chusy non è costo di crescere, chusy di sada vederrata e resta. Chusy di bambino'e nei suoi, Scriviti al canale. se si è andato a il si nel su si si grazie a tutti gli occhi Humor kisi dì non fare. Quindi, gli altri hanno chiesto, avete fatto? Hai? Hai, qualche 2-4 metà, è molto felice. Ho abbiamo qualcosa con cui è, che resta. Ma se si è solo, si è piaciuto. Perché? Perché si è in questo modo? Quindi, si è in questo modo, 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 . stiti per havi ho giàati stiti per havi ho giàati e poi stiti stiti nè ciò per il paura stiti non è mai stiti non è mai stiti sempre stiti 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 che c'è un video, se si non vedete quindi se quel che è lo stesso si chi chi è lo stesso se si vedete l'ho detto prima volta ora si vede anche ce non viene e l'aglio vero si che vede così a 구ocitaria se si mi comunque non può essere ma per se questa volta si se viene poi cosa dire si 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 se si è giusti, sessi anche la natura, inizia a tutti i nostri amici, se si è emozionale, allora cosa faremo? È un bel comorbidio. Tres volte vanno attraverso, senti retenuti, la scena è rata, ma bambina è rata. Vabbè è che diceva, che Cui risulti, perché è risultato, che la risultata è rata, i pensi prima di venire, i pensi di rata, grazie a tutti Switcherci greedervi Understandare South Per Plurali Somnacch È Parishà Stiti Không Ne Nier De Est Star Stiti è il caso di stiti, quindi è il caso di stiti. una volta sempre uno Schreer bhi chute Poi Schreer bhi chute Non jai Bhav nè Schreer se bhi Zardà importance Schreer bhi Schreer bhi Schreer bhi Khabhi na kama Ho Schreer bharkarar Rai Bhali ki Badhti rai Badhti jai Badhti jai Badhti jai Khabhi bhi Kamb na Samaj ki bad hai Bacchou ke li Bacchye samjhe To chalenge Chalenge To anand lenge Chalte rai Samajte rai Anand lete rai To kya karen hai Ki avyaktasiti Kam rheti hai Parishiti me Aja Parishiti Bacchou ke upar Havi ho Jati hai Parishiti Bacchou ke upar Havi ho Nekke karen Bacchye Parishan Ho Jati hai Bacchye Bacchye Parishiti Havi Bacchye 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 quindi andrò alas se anche non è venuto quando voi avessi questa situazione si sono andrò abbiamo pensato che ci faremo 5 volte spaziano si siano si siano si siano si siano si siano si siano grazie a tutti e il giudio 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 ma Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it